Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, in questo video brevissimo volevo informarvi che la Rockstar Games sul proprio account Twitter ha rilasciato questo post. Tradotto in italiano, quello che la Rockstar ha scritto in questo post significa le feste di Natale stanno per finire. La sorpresa festiva a tema di Natale si conclude il dodicesimo giorno, praticamente il 5 gennaio, praticamente tra poche ore. La Rockstar non ha specificato l'orario in cui toglierà questi contenuti a tema natalizio, molte persone mi hanno domandato se i completi di Babbo Natale, tutti quei completi a tema natalizio, se salvati tra i completi salvati rimarranno anche dopo che la Rockstar li ha rimossi. Infatti l'anno scorso avevo un completo da Babbo Natale salvato tra i completi salvati, sperando che la Rockstar non me lo togliesse e quando ha rimosso questi contenuti mi ha rimosso successivamente il completo che avevo tra i completi salvati. Per cui penso che anche quest'anno sia così. Per cui tutti i contenuti che la Rockstar ha rilasciato in queste feste natalizie saranno rimossi. Infatti come avete visto erano tutti gratis, si potevano acquistare gratuitamente. Giusto per allungare questo video di qualche secondo, volevo informarvi che secondo me la Rockstar è davvero stata furba nell'inserire tra i contenuti di Natale i tre nuovi clacson a tema natalizio per i vari veicoli. Perché dico questo? Perché quando voi modificate un clacson di un'auto dovete pagare quasi 100.000 dollari se volete avere un bel clacson, quelli migliori insomma. E poi quando andrete ad acquistare il clacson a tema natalizio si costerà zero, ma quando la Rockstar rimuoverà questi contenuti, praticamente romani, la gente si troverà il veicolo con il clacson normale, quello predefinito a costo zero, quello normale insomma. Per cui per applicarli di nuovo quel clacson dovete rispendere quasi 100.000 dollari. Sicuramente domani quando la Rockstar leverà questi contenuti, moltissimi giocatori ritroveranno il proprio veicolo con il clacson predefinito anziché quello a tema natalizio. Se si staranno chiedendo questa domanda i vostri amici, fateli vedere questo video in quanto ve l'ho mostrato insomma, vi ho spiegato il motivo. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui social network e da Orkover. Tutto noi ci vediamo al prossimo video, bella!